E' polemica dopo le multe elevate dalla Polizia Municipale a chi si siede sui finestroni dei portici di San Bernardino, da sempre luogo prescelto dai giovani della città, ma vale per tutte le età. Ovviamente si capisce che è un deterrente dopo gli ultimi episodi di violenza e inciviltà. Attacca però il PD con il responsabile delle politiche sociali Alessandro Tettamanti e con il segretario Nello Avellani, che se la prendono anche con il capogruppo di Fratelli d'Italia Leonardo Scimia, una decisione per loro anti-educativa. Servirebbero invece progetti mirati per i più giovani e anche per i minori stranieri non accompagnati. Noi dobbiamo ascoltare questi giovani, che siano italiani o stranieri, dobbiamo fare in modo che possano integrarsi, che possano vivere a pieno la città. Per farlo bisogna ripensare lo spazio pubblico, che non può essere interpretato solo come uno spazio di commercio produttivo, ma deve essere anche uno spazio culturale, di incontro, socialità, di produzione e fruizione appunto della cultura. Per questo noi chiediamo un confronto all'amministrazione attiva insieme alle forze dell'ordine, alle associazioni che si occupano di terzo settore e in particolare a quelle che si occupano di politiche sociali, per ascoltare i giovani delle loro necessità e fare in modo che in centro ci siano degli spazi a loro destinati. Non è neutro che all'Aquila oggi manchino delle aule e biblioteca, non è neutro che oggi all'Aquila non ci siano dei cinema, dei luoghi dove i giovani possano incontrarsi, confrontarsi e appunto approcciare alla cultura e alla socialità. C'è quello spazio bellissimo dell'ex asilo occupato a San Basilio, ecco quello potrebbe essere uno spazio che dà una prima risposta alle giovani e ai giovani della città, che vanno integrati nella città e non vanno scacciati.